Cominciamo con calma signori, cominciamo col presentare quello che sarà il format e lo presentiamo a modo nostro, lo presentiamo con un video introduttivo della God Wager League che vi spiegherà in poco tempo di cosa tratta la God Wager League, come funzionerà il tutto e come sarà tutto storto. 3, 2, 1, via! Benvenuti alla God Wager League, il torneo di Warzone più amato d'Italia. 16 partecipanti si affronteranno in un test a testa per decidere chi è il king delle Wager italiano. 8 scontri diretti Best of 5 definiranno i primi vincitori che accederanno alla seconda fase. Gli sconfitti avranno la possibilità di riscattarsi nel loser bracket e arrivare alle finali. La competizione verrà trasmessa con un appuntamento settimanale su twitch.tv slash moonride fino alle fasi finali LAN. I partecipanti sono pronti, le estrazioni verranno trasmesse martedì 4 e giovedì 6 aprile. Seguite i social ufficiali per ulteriori informazioni. E allora qua io comincerei subito un po' ad andare, prima di tutto, a fare l'anzip. No, ah no, ho aperto quello sbagliato. Va bene così. Eccolo qua! Come si fa una full screen? I 16 partecipanti di questa edizione, prima edizione della Godwager League italiana. Signori, iniziamo subito con una voce rauca che abbiamo spoilerato già il primo partecipante. È il mitico, indiscusso, capitano, un uomo rosso. Russica poco, non si incazza mai. Andy! Red! Potrà fare bene in questo torneo? Potrà dimostrare di essere l'attezza? Azi, azi. Signore e signori, il secondo partecipante non è conosciuto da molti, ma è uno dei giocatori più forti attualmente su Call of Duty Warzone. E signore e signori, dovete stare attenti al goal, perché quando attacca lui non si stacca mai. E quindi il secondo partecipante è il mitico Z-Goal. Eccolo qua, ragazzi. Giocatore molto forte nei tornei privati, giocatore molto forte in Wager. Da più di un giocatore addetta e rientra, sotto tanti punti di vista, nella top 5 italiana, secondo tanti. Vedremo se dimostrerà l'altezza, oppure almeno che cosa? Delle sue nomea. Lo dobbiamo scoprire, ragazzi. Andiamo a vedere un terzo partecipante, che non ha paura di nessuno. Vuole attaccare, combattere, fare male. Signori, il terzo partecipante non è che Sniper Pigna. Lei è terribile. Welcome to the jungle, Sara. E stai attento a Tarzan, perché Jesus, quando si arrampica sugli alberi, dice... Il creatore di uno dei contenuti che odiano tutti i jitter. Una faccia che promette molto bene sotto Sniper Pigna. Non vorrei dire n'altro, non ha bisogno di presentazioni. Lui si chiama Kyborg, ma in realtà è un Cyborg. Signore e signori, non poteva mancare, dalle profondità degli abissi, un animale, uno squalo, un predatore. Il primo che sfidò Fifa, il primo che si mise in gioco. Adesso non ha paura di nessuno e vuole arrivare in finale ad alzare la coppa in faccia a quelli che per lui sono solo dei luridi bastardi da mangiare. Il mitico Viero Nazionale. Gli ultimi tornei sta facendo benissimo, l'abbiamo visto con Andy Redd. Stanno portando a casa sempre bei risultati, bellissimi. È cresciuto tantissimo, vuole mettersi in gioco e l'abbiamo chiamato. E ha risposto presente a una chiamata importantissima, quella della Godwager League Italian Division. Non abbiamo trovato le foto di tutti, ragazzi. Alcune foto erano troppo storte. Andiamo a vedere subito il prossimo giocatore. Non è per caso un compagno di squadra? Non è per caso un eroe nazionale? Non è per caso un vincitore del Bugabross da 50k? Non è per caso un fratello con cui abbiamo fatto settimi in Europa? Signore e signori, qui abbiamo l'americano, l'inglese, non se sa. Comunque solo lui sa che cazzo di lingua parla quando si incazza e gioca. Jesus J.R.R. Player da strapazzo. Predax! Fenomenale! Ancora più forte secondo me su Warzone 2 di Warzone 1. Nonostante lui si incazza sempre per lo Sly Cancer. Che vorrebbe che fosse il suo cognome Predax Sly Cancer Love You. Ragazzi, si vuole riscattare. Stanco del solito 4-3. E qua comincia a essere bollente, eh? Perché Kyborg sta ridendo? Eccolo qua. Entra subito cattivo. Chiamato anche il Richie Rich di Warzone. Signori, B-Blade. Lui è la gatta da pelare. Andiamo avanti. Il prossimo sfidante sotto Blade è il mitico System. Ragazzi, System non so quanti di voi lo conoscono. Sta giocando delle private da paura. È un giocatore molto forte. È un giocatore molto, molto forte sia in close anche a livello di testa. È un giocatore che fa un botto di wager. Nessuno se l'aspettava. Il System ha risposto sì alla Godwager League Italia. Qua c'è anche lui che si mette in gioco. Ci sono giocatori che nessuno si aspettava. Ma sono presenti. Hanno fame. Hanno fame. E signori e signori, qui abbiamo un'altra sorpresa. A detta di molti, soprattutto di Blade e di Vortex, Key Bates, un animale, si presenta così in punta di piedi, ma vuole fare un devasto. Signori, il livello è altissimo. Addirittura Vortex è anche un po' il suo antagonista. Non ho spoilerato Vortex. Ma vi pare che ho spoilerato Vortex? Perché è appena uscito Vortex, signori. Entrambi i free agent, anche Vortexone, ragazzi, c'è anche lui. Ovviamente, come facevano in inserire il P-Bro, Vortexone vuole riscattarsi dal terzo posto della King's Wager. C'è anche lui. Quest'altro giocatore, che non è niente, un po' di meno, della mitica Panny. Panny che, ricordiamo, ha nel suo counter di kill due volte Aidan in privata. L'altro giocatore che entra a cazzo duro, e a cazzo duro entra il mitico Paralyze. Free agent attualmente, Paralyze ha avuto una crescita esponenziale, su Warzone 2. Non ha avuto modo di competere forti nella King's Wager su Warzone 1, ma adesso vuole fare male. Compagno di squadra in diversi Twitch Rivals. Compagno di squadra in diversi tornei. Compagno di squadra in tante Wager e tante risate. Non mi ricordo se c'è Barry qua. No, c'è Alien, cazzo, ho spoilerato Barry. No! Barry TV, detto anche Alien Baby. E Alien Baby, detto anche Barry. Ho capito? Oh, ma io ho fatto 12 giorni di macchina, eh. Adesso ci saranno, martedì questo, alle 21 ci sarà l'estrazione. L'estrazione dei primi 8 partecipanti. E poi giovedì altri 8 persone che scontreranno gli 8 del giorno, di martedì. È fissio perché faremo proprio l'estrazione figa con le pallette, così andremo a prendere nome per nome. E vediamo poi come si forma. Finale in Montepremi, ve lo spoileriamo più là, perché stiamo in trattativa con diversi sponsor, per vedere un po' dove farlo, con chi farlo, quanto, quanto, mettere in Montepremi e così via. La finale in LAN vogliamo farla con il pubblico, cercheremo di farla con il pubblico. Dai, sto troppo contento, raga, ma io già mi immagino, raga. Immaginate le prime fasi, poi cominciano ad arrivare agli ottavi di finale, poi ci stanno i quarti di finale, poi arrivano le serie finali, cioè là, là tutti pazzi perché... Cazzo! In più però se perdi, poi dopo tu vai alla Loser Braket, quindi chi perde c'ha la possibilità di andare avanti, quindi è sempre un combatti, combatti, ci posso arrivare, capito? Non è più facile arrivare in finale dalla Loser? Eh, non lo so, eh. Anche perché poi ti faccio un esempio, cioè se tu perdi, esempio, Andy Redd contro Ziegoul, vince Andy, passa avanti, Ziegoul perde e va sotto, Ziegoul contro Kyborg, vince Ziegoul, passa avanti, Andy Redd contro Jesus, vince Jesus, Jesus passa avanti, Andy Redd va contro Ziegoul, capito? E si risfida un'altra volta, capito com'è, raga? Quindi, cioè dopo, tu ti trovi quello che è passato contro di te, è difficile, eh, raga. Cioè, è tosta, raga, ma raga è fighissimo. Se invitiamo tutti esce GTA 7, ragazzi. Invita Mattarella. Mattarella lo invitava, era troppo, troppo storto. Come, come lo vedete? Cioè, io, secondo me ci stanno un sacco di cose storte, cioè, cioè, se arrivano in finale gli stessi dell'anno scorso, mi sento male, raga. Vi immaginate semifinale, Jesus Predax, Blade, Vortex. Impazzisco. Pure Savi, Savi, secondo me farà bene, pure Kaiba, raga. Il fatto è che, secondo me, Ziegoul farà bene, cioè, capito? Come cazzo? Cioè, boh, non lo so. Secondo me sto format diventa una mina. Diventa una, non so anche mina! Il mio pronostico su chi vince? Non lo so. Ti giuro, non lo so. Non lo so. Può succedere tutto, raga. Cioè, l'anno scorso, Blade e Jesus, cioè, Blade ha vinto dena kill. Per farvi capire, cioè, che è talmente, è tanto sottile, non lo so, non lo so. Le regole del game già decise? Le solite, ragazzi. Le solite regole della Godwager? Siamo ancora indecisi se mettere o non mettere il gettone ritorno, per far durare le partite e dare ancora un po' più di hype al content, ragazzi. Io voglio metterlo il gettone perché lo puoi ottenere tramite le roccaforti. Quindi è una sicurezza, cioè, tu lo tieni al 100% se fai la roccaforte e rischi di farla. Quindi vorrei metterlo il gettone, anche perché creerebbe più spettacolarità ai game. Dovevo parlare bene con Pibbo e vedere bene. Voglio mettere il gettone. Premiamo il giocatore anche che rischia ad andare a fare la fortezza e sapete benissimo, 1 contro 3 la fortezza è rischiosissima, però magari se ci vanno riescono a farsi una triple e chi le impiose portano a casa il gettone è un premio meritato. Ci sta, secondo me è più equilibrato perché al 100% lo trovi. Come funziona, ragazzi? Le prime partite saranno best of five, che significa che il primo che arriva a 3 vince, quindi non sarà best of 7 perché altrimenti durerebbe troppo. Il primo che arriva a 3 di queste partite vince e passa alla fase successiva, chi perde andrà nella loser bracket per cercare di ottenere la vittoria fino ad arrivare in alto e arrivare anche in finale. A un certo punto arrivando alle semifinali ci sarà la best of 7, quindi durante le semifinali si entrerà nel clue della sfida e anche per quanto riguarda ovviamente la loser bracket saranno 7 le partite da affrontare, quindi il primo che arriva a 4, perdonatemi, non a 5, vince e se la porta a casa. Quindi leviamo ancora di più l'RNG. Ci saranno due appuntamenti serali, che significa? Ogni settimana c'è una puntata della God Wager League e in quella puntata che andremo a fare durante la live ovviamente ci saranno 4 player che si sfideranno ovviamente 2 contro 2, quindi ad esempio Indiret contro Z-Goal e appena finiscono loro subito dopo si devono scaldare, infatti questa è purifica come cosa, subito dopo magari ci sarà Savi contro Viero, ok? E quindi per... è come due appuntamenti serali di box, pensiamola così. Le partite... Allora, le partite principalmente si partirà terzetti con la speranza che non levano terzetti. Se Activision leva la playlist terzetti ci sposteremo duo. Io riuscirò a battere tutti? Ma guarda tutti, tutti insieme, con la macchina. Loro partono a piedi e io li inseguo. Monitor cam obbligatoria? Monitor cam obbligatoria no, no, però all'inizio di ogni match, bravissimo, questa è una bella domanda, all'inizio di ogni match gli streamer dovranno chiudere il gioco, quindi chiudere il Call of Duty, aprire il Task Manager, scrollare per far vedere se ci sono altri programmi attivi, i programmi attivi che poi le clip dovranno essere mandate dai moderatori dei ragazzi ai nostri moderatori che visioneranno poi il team, c'è le clip, e riaprire, aprire il gioco e partire, ok? Basta quello, basta quello ragazzi. Comunque di base sono tutti fidati, cioè raga, però noi lo facciamo uguale per correttezza di chi guarda, tutto qua, non è che dubitiamo, è proprio per correttezza, per essere ancora più, non dico competitivi, ma corretti, tutto qua. E poi c'è Kaiborg, esatto, ovviamente grazie per il sostegno che date sempre, per le idee, per la gasaggine, anche la curiosità non cattiva che mettete sempre nei commenti perché ci fa migliorare, ci fa capire un sacco di cose, ma sicuramente l'idea è vincente, sono contento ovviamente di tutte le belle parole che avete scritto. Vi stizio la chiappetta e ci vediamo domani mattina alle 10. a 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